Buongiorno Davido, oggi puntata più seria del solito perché torniamo a parlare di OpenAI, ma non per qualche nuova voce sulle capacità di GPT-4 o per accordi commerciali con Microsoft, ma per un articolo uscito ieri sulla rivista Time che ha fatto rivelazioni importanti sulla filiera lavorativa che porta a prodotti come ChatGPT. L'abbiamo detto anche qui molte volte, le IA generative si basano sul training su dataset giganteschi e nel caso della generazione dei testi, le sorgenti sono i testi scritti da esseri umani sul web in tutti questi anni di blog e di social network. Il problema è che questi testi sono pieni zeppi di violenza, sessismo, razzismo e in genere le cose peggiori che la mente umana può partorire. E infatti quanto avevate sentito parlare di GPT-3 prima di ChatGPT? Immagino molto poco e questo perché nonostante le abilità fossero già straordinarie, le risposte generate erano influenzate da questo mare di oscenità, oltre ad avere i noti bias culturali e quindi era un prodotto difficilmente vendibile al grande pubblico. Ed è anche per questo motivo che è nato ChatGPT, che invece dispone di un filtro che gli permette di riconoscere se il testo che potrebbe produrre è tossico e impedisce quindi che raggiunga l'utente finale. Questo filtro è un'altra intelligenza artificiale che è stata addestrata per riconoscere questo tipo di contenuti e quindi assiste GPT sostanzialmente indicando cosa è opportuno e cosa no. Fin qui tutto bene, ma c'è un problema. Il training delle IAA si basa su un concetto chiamato labeling, cioè letteralmente mettere delle etichette su contenuti in modo da classificarli e permettere all'algoritmo di imparare a riconoscerli. E questo processo nella sua fase iniziale deve oggi essere fatto da esseri umani. Capite bene quindi che ci sono delle persone che devono leggere i peggiori test che vi possano venire in mente, trovati nei meandri più oscuri del web, alcuni che descrivono in dettaglio situazioni come abusi sessuali su minori, omicidi, suicidi, torture, autolesionismo o incesto. Time ha scoperto che a operare queste categorizzazioni per conto di OpenAI è stata Sama, una compagnia di San Francisco che assume lavoratori in Kenya, Uganda e India e offre questo tipo di servizi anche ad aziende come Google, Meta e Microsoft e si definisce una compagnia ethical AI che ha aiutato più di 50.000 persone a uscire dalla povertà. Time ha visionato centinaia di documenti interni di Sama e OpenAI e ha intervistato quattro dipendenti Sama che hanno lavorato al progetto, che hanno mantenuto l'anonimato. Ha scoperto intanto che la paga media di questi lavoratori era tra 1,32 e 2 dollari all'ora, a seconda di seniority e performance. Uno dei dipendenti intervistati ha riportato ad aver sofferto di visioni ricorrenti dopo aver letto di un episodio di volenza sessuale che coinvolgeva un bambino e ha detto che questo tipo di contenuti era quello che leggeva per tutta la settimana, cosa che ha paragonato alla tortura. Questo tipo di eventi traumatici hanno infine portato Sama a interrompere il rapporto con OpenAI nel febbraio 2022, otto mesi prima di quanto inizialmente concordato. I documenti visionati da Time rivelano tre contratti del valore totale di 200.000 dollari per categorizzare testi riguardanti abusi sessuali, hate speech e violenza. Tre dipendenti Sama hanno rivelato che il loro lavoro consisteva nel leggere e etichettare tra i 150 e i 250 testi in turni da nove ore e tutti i quattro intervistati hanno riportato di aver subito dei traumi nella loro condizione mentale e che nonostante avessero chiesto a Sama di poter parlare con terapisti singolarmente, tutto quello che avevano ottenuto era la partecipazione a sessioni di gruppo. Un portavoce di Sama ha tuttavia dichiarato che questa affermazione risulta non corretta e che invece i terapisti erano disponibili in qualsiasi momento per sessioni individuali. Tornando ai soldi, secondo il contratto OpenAI avrebbe pagato a Sama 12,50 dollari all'ora, cioè tra 6 e 9 volte quanto Sama pagava i propri dipendenti impegnati sul progetto. La maggior parte di questi si portava a casa 170 dollari al mese più un bonus di 70 dollari per la natura esplicita del proprio lavoro, cioè circa 1,32 dollari all'ora. Non esiste un salario minimo in Kenya e tuttavia in quello stesso momento il salario minimo per un addetto alla reception a Nairobi era di 1,52 dollari all'ora. A febbraio 2022 il rapporto tra OpenAI e Sama si intensifica brevemente e poi si interrompe. Sama iniziò un progetto pilota per catalogare immagini con contenuti sessuali e violenti, alcune totalmente illegali su suolo americano per un progetto non collegato a chat CPT ma probabilmente a Dalì. In quel momento Sama consegnò a OpenAI un dataset di 1.400 immagini, catalogato con diversi codici, ad esempio C4 per abusi sessuali su minori, C3 per stupri, V3 per immagini riportanti dettagli di morte, violenza o infortuni molto gravi. In seguito a questo lavoro Sama cancellò bruscamente il contratto con OpenAI, peraltro accordandosi per un compenso inferiore. Un portavoce dell'azienda ha dichiarato che dopo aver ascoltato le preoccupazioni di un team riguardanti questi contenuti illegali, Sama ha deciso di interrompere il pilota e ogni ulteriore progetto. OpenAI dal canto suo ha confermato di aver ricevuto il dataset di 1.400 immagini contenenti tag C4, C3, V3 eccetera, ma che non intendevano catalogare contenuti C4 perché questi non sono necessari come input per il training e andavano al contrario completamente evitati. Vi lascio naturalmente l'articolo completo in descrizione e vi consiglio assolutamente di leggerlo perché fa luce su un aspetto del mondo dell'intelligenza artificiale che spesso è sottovalutato, ovvero l'enorme mole di lavoro umano richiesto per le opere di catalogazione e soprattutto sullo sfruttamento di lavoratori a basso costo in paesi dove la mano d'opera costa un decimo del salario minimo americano e dove i lavoratori spesso evitano di protestare per non perdere un lavoro che pur orrendo e disgraziato è spesso l'unico modo che hanno per portare a casa uno stipendio decoroso. Grazie per avermi seguito fin qui anche oggi e noi ci risentiamo alla prossima. Ciao!